ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi parliamo del nuovo numero di giulia il 308 che sarebbe dovuto uscire il 3 di maggio ma per la distribuzione a singhiozzo che si sta avendo in questo periodo in concomitanza con la festa il 25 aprile del primo maggio è arrivato soltanto oggi parentesi tex che doveva arrivare anch'esso oggi non si è visto quindi ne riparleremo prossimamente e allora l'albo è come vi dicevo il 308 si intitola è caduto una stella andiamo a vedere subito i crediti come sempre la storia è stata ideata e sceneggiata da giancarlo belardi e lorenzo calza i disegni sono di marianna ignazzi che torna tra l'altro dopo qualche mese dovrebbe essere credo la sua terza o quarta storia su giulia la copertina sempre chi siano spadoni elettricamente in apeirano per quanto riguarda la posta c'è sempre una solita riflessione di di giancarlo belardi con un giornalista del giornale sul concetto di destra sinistra far riflettere e poi inizia subito la storia che vi premetto mi è piaciuta ho passato una buona mezz'ora di lettura è inutile che faccia i soliti discorsi sul fatto di quanto giulia sia cambiata come criminologa sia più una detective perché abbiamo triti e ritriti in testa questi ragionamenti semplicemente c'è stato un cambio di tipologia di comportamento del personaggio anche se in questo numero posso dire che è al netto delle indagini che giulia si troverà a svolgere comunque l'ho visto un po più criminologa ovviamente dimentichiamoci la criminologa dell'inizio ma ormai è un po di tempo che giulia così quindi sono semplicemente delle scelte che sono state fatte quindi al netto di questo è una buonissima storia una tematica molto classica relativa a un omicidio che si che si va a verificare all'interno dell'ambiente della moda quindi delle sfilate la protagonista è la vittima una ragazza di 15 anni che viene una famiglia in cui si si bada soprattutto all'apparenza quindi alle a questa carriera che lei pare promettere e su cui la madre proietta le sue e il suo tentativo di rivalse il padre lontano freddo che è un musicista classico e che vorrebbe e che avrebbe voluto che lei continuasse questo questo cammino ci sarà un giro di droga quindi anche una sorta di di ambiente alto locato di prostituzione minorile ma insomma sono tanti cliché che possiamo trovare nel classico racconto relativo agli ambiti più torbidi delle delle modelle quindi la storia diciamo fa il suo appunto si parte da questa da questa morte per overdose di questa ragazza che si nollie su cui indagherà giulia in compagnia di sua sorella che è norma che è appunto tornata a garden city e che è in qualche modo è l'anfitrione di questa ragazza perché lei ha deciso di mollare la carriera di modella e diventare una sorta di talent scout e quindi segue questa ragazza in collaborazione con altri personaggi più o meno chiari più o meno positivi e quindi all'interno di questo scenario si si verifica la morte di questa ragazza più che un omicidio diciamo diretto è una morte per overdose anche se chiaramente in qualche modo è stata è stata procurata e quindi e giulia si dovrà indagare con norma con l'aiuto di norma che ha le sue entrature all'interno delle di questo mondo ed essendo essa stessa sentendosi responsabile perché rivedeva se stessa in questa molli con le sue debolezze incluso la droga come compagna di indagine e poi chiaramente si scoprirà chi avrà le sue responsabilità ci saranno tanti personaggi di contorno coinvolti alcuni amici di molli un fidanzatino trattandosi appunto di ragazzi molto giovani e quindi si il caso verrà risolto è una storia che funziona dal punto di vista narrazione al punto di vista di 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 come viene intessuto il racconto ma questo non non ci deve stupire perché sappiamo benissimo che berardi e calza siano siano bravissimi a a creare questi questi meccanismi al netto di questo è una storia non dico prevedibile però qualcosa che in tutto sommato si era già visto però ripeto si ha una funzione di lettura l'intrattenimento quale di fatto secondo me ormai giulia sta diventando e coglie in pieno il suo segno per quanto riguarda i disegni e poi dico un'altra cosa chiosa sono molto puliti molto uno stile standardizzato richiesto da da berardi per la sua creatura anche questa è una scelta gnazzi che fa il suo dovere in maniera egregio direi e quindi diciamo è una storia che sicuramente si porta a casa la sufficienza non mi ha esaltato in maniera particolare ma non è neanche una storia che si può definire brutta una un paio di cose importanti invece che ho riscontrato all'interno di questo racconto e che mi hanno permesso di di fare un paio di ragionamenti sulla testata sono questi abbiamo appunto norma che decide di di tornare a garden city dopo aver lasciato la carriera attiva la modella vuole fare la fotografa la talent scout in qualche modo il fotografa di moda e quindi avere una sorta di sua scuderia o comunque di alcune sue diciamo accolite e si trasferisce a garden city cerca una casa non vuole vivere con giulia perché vuole la sua indipendenza e quindi questo è un passo avanti nel nel racconto di giulia ossia il fatto che norma decida di tornare a garden city e quindi penso che la vedremo più spesso all'interno dei racconti e questo secondo me non è un male perché si può si può si può mettere un po di carne al fuoco e poi sempre in questa storia appare ettore che dice a giulia di aver preso dei biglietti per andarla a trovare a garden city e che avrà ben un mese di ferie e si incontreranno perché è necessario che parlino del loro del loro apporto spoiler ma non è niente di così significativo ettore non arriva da giulia cioè nel senso in queste episodi non si parla di ettore che arriva a garden city ma che vuole partire quindi presumo che prossimamente avremo qualche episodio in cui ettore sarà negli stati uniti tra l'altro berardi a lucca comics l'anno scorso aveva detto in un'intervista che in qualche modo se ricordo bene si sarebbe chiarito una volta per tutte il rapporto con giulia in questo 2024 quindi comunque si capirà se si sposeranno se si lasceranno saremo a vedere e quindi dove volevo arrivare il fatto che mi ha fatto riflettere la cosa che comunque al netto dei cambiamenti che poi avrebbe avuto la testata eccetera eccetera l'abbiamo già detto ribellito tante volte comunque giulia rimane un personaggio moderno adatto ai tempi e soprattutto pur con le sue lentezze ha una sua evoluzione perché appunto norma che torna garden city si trasferisce il rapporto con ettore che in qualche modo si presume avrà una una sua collocazione chiara nel bene o nel male ci si lasceranno vivranno insieme definitivamente e questo mi fa presagire che un giorno ma questo non è una un augurio assolutamente però mi fa pensare che un giorno giulia chiuderà nel senso che berardi deciderà di che sarà arrivato il punto di dire basta e quindi ci sarà una naturale conclusione della testata almeno se questi sono i presupposti almeno le considerazioni mi sento di fare sono queste quindi sull'albo buon numero una storia assolutamente che va si becca la sua sufficienza nei testi nei disegni narrazione poco da dire non è niente di così indimenticabile è una storia sicuramente che fa passare un po di tempo se giulia la leggiamo da questo punto di vista la interpretiamo così allora possiamo andare sereni e tranquilli quasi tutti i mesi se però ci aspettiamo qualcosa di crudo come una volta magari difficilmente sarà così saremo a vedere ci vediamo col prossimo video ciao ciao